Musica Bella a tutti nerd, qua MrDrax e oggi siamo in un nuovo video e siamo qua su Clash Royale E siamo tornati per il secondo episodio Ecco qui il mio deck, l'ho aggiornato rispetto a quello vecchio Il costo medio è di 4.4 di Elisir E adesso andremo a fare degli attacchi Ok, allora, buttiamo subito giù il barile per fargli vedere Ok, sta laggando la mia connessione in modo incredibile Ok, aspettiamo di arrivare a 9 Ok, spawniamo questi insieme Sperando di non beccare l'ondata di Skeletree Beh, non è accennata benissimo Vediamo, buttiamo giù il drago qua Così attacchiamo gli sgherri Questi qua I moschettiere così attacchiamo da lontano queste due Ok Abbiamo quasi buttato giù la prima torre Diciamo che lui è in vantaggio Proviamo il barile Goblin A livello 2 Ho trovato la seconda carta Ok, bene Direi di buttare giù questo Il gigante E qua Non so se ce la faccio Dai, muoviti Ok, dai, dai, dai Defendi Caudi per poco Beh, per poco No, questa è stata sfortunata Scusatemi se parlo un po' con la voce nasale Ma sono raffreddato Però volevo registrare lo stesso Ok, vediamo Buttiamo avanti il gigante E il mini pecca per dietro Ok, qui c'è sui scheletrini Sono concentrati tutti sul gigante E possiamo attaccare Liberamente Beh, insomma E buttiamo giù Barile Goblin E il castello lì L'abbiamo buttato giù Se mi carica l'ondata di scheletri Gliela piezzo qui Fregatti Molto bene Ora che so che L'ondata di scheletri Ma l'ha appena buttata giù lì Io butterei giù il principe Che va verso il castello Perciò Eccolo qui Speriamo bene Parecchia vita Gliela abbiamo tolta Drago Adesso appena abbiamo pronto il pecca Sarà il suo turno Porca Vabbè Buttiamo giù questo Barile Goblin Bene così Gli togliamo parecchia vita Oh Per 46 Non ci credo Proviamo buttare giù L'ondata di scheletri Ma lì ci va anche bene No L'ondata di scheletri Contro l'ondata di scheletri È stata un po' sfortunata Beh lì non mi preoccupo neanche A difendere Tanto ormai abbiamo vinto Ultimo colpo E questa partita qua È nostra Molto bene Abbiamo un baule omaggio Apriamolo Vediamo Cosa troviamo 32 d'oro 4 cavaliere E un razzo Diciamo il razzo Ce l'avevo nel deck Però l'ho tolto Perché Cioè 6 di Elisir Erano parecchi Ok Siamo contro Un ragazzo Nel mio clan Vediamo Buona fortuna Anche a te Allora Buttiamo giù Subito Il barile goblin Ah ok Quindi lì parte Subito Così Allora Noi difendiamoci Con Gigante E pecca Va la capanna Barbari Sì Ce l'ho anche io Diciamo Come carta Però Non l'ho mai provata E sinceramente Non so Se usarla O fare a meno Ok Distruggi Bravo Manca un colpo Qua buttiamo giù Vediamo Ondata di scheletri Così ci difendiamo Quei barbari No ma lui ha le frecce Cavolo Questa non ci vuole Ok Bettiamo giù La capanna Lì Il moschettiere È molto forte Diciamo Come carta Non l'avevo sottovalutata Infatti adesso L'ho anche reinserita Ce l'avevo inizio Del gioco Poi l'ho tolta Però Visto che Comandava E quindi L'ho reinserita Buttiamo giù Qua il coso Principe Così attacca il pecca C'è anche Non serve a nulla No 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 Fermi tutti Ok Andate agli scheletri 60 secondi Alla fine Ma lui non può Buttarmi giù Non può usarmi le frecce Ok Tac Proviamo a buttare Il barile goblin Non servirà più di tanto Però sicuramente Barbarie qui E anche L'ondata di scheletri E' servita a poco Ok dai 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 Che stiamo rimontando Via Vai anche te No Perché devi buttarmi giù Con le carte lì Devi buttarmi giù Ok Buttiamo Questo Gigante Drago Così magari distrugge Ok dai L'ho vinta io Ho buttato giù Solo una capanna Però dai L'ho vinta io Ok Adesso siamo sempre Contro a una ragazza Che gioca nel mio clan Ok Subito Cappanna dei goblin Noi tacchiamo subito Così Cioè Lei ha iniziato a giocare Dopo di me Ah Clash Royale Perciò Non lo so come sia messa Dal punto di vista Con le carte Delle carte Buttiamo giù Moschettiere Così distrugge Gli sigarri E adesso dovrebbe buttare giù Anche l'ultima No niente Non è vero niente Il pecca Dai Ok E una capanna Gliel'abbiamo buttata giù Barile goblin Non è servita tanto Perché ho usato Gli sigarri Comunque Adesso vediamo Se riusciamo a ricaricare Il principe Manca un minuto 15 circa Devo valutare Per un deck A distanza Ad esempio Utilizzando arcieri Cannoni Moschettieri Comunque se avete Un deck Da consigliarmi Scrivetemelo Qua sotto Ok Ho usato L'ondata Di scheletri E la capanna Lì Proviamo ad attaccare Di nuovo Con la botte Dei goblin Dei goblin E ondata Skeletri Usiamola qua E usiamo anche Il principe No Usa anche Lei L'ondata Vediamo Cosa riusciamo A combinare Ha buttato Giù Anche Mi ha buttato Giù Anche Lei Cavoli Una Cappanna Dai Buttiamo Giù L'ondata Di scheletri No Non ci credo Mi ha buttato Giù La capanna Ok Dai Diciamo Che Vabbè Dai L'abbiamo Persa Contro Una Ragazza Va bene Dai Ci può Stare Quindi Bene Nerd Per questo I' Mi piace Di tutto Ci si arriva Al prossimo Video Bella Ciao Ciao Ciao